Sarà aperto dopo l'estate il cantiere per la realizzazione di oltre un chilometro e mezzo di marciapiedi alla serra. Si tratta del più grande lavoro effettuato negli ultimi 15 anni sulla frazione della serra. Questo perché la nostra attenzione deve essere sia sulle grandi frazioni ma anche su quelle piccole frazioni che comunque ben rappresentano lo spirito del nostro territorio. E partendo appunto da interventi piccoli mirati ma importanti, il rifacimento di praticamente quasi tutti i marciapiedi della zona della serra è importante per ridare decoro alla frazione ma anche per renderla più sicura e più fruibile. I lavori interesseranno Piazza di Coubertin, Via dello Sport, Via Meazza, Via Coppi e Via delle Olimpiadi. Un investimento da oltre 130 mila euro che prevede anche la messa in sicurezza dell'incrocio fra Via Coppi e Via dello Sport e la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali. Andremo a rimodulare anche le acque, in senso andremo a rifare le fogne, le caditoie per rigimare tutte le acque piovane e andremo poi a fare anche degli smussi, cioè dell'abbattimento delle barriere architettoniche per effettuare poi dei passaggi, degli attraversamenti pedonali in sicurezza. Questo su buona parte dell'abitato della serra. Al momento stiamo a gara, una volta conclusa la gara andremo all'affidamento e io penso che in tutto l'autunno inizieremo lavori. Disagi per la viabilità un pochino ma non determinanti nella vita delle persone.